This is it Marines, let's get them! I have never seen it Ok, first of all we need is block breakers Allora per farli ci vogliono questi oggetti, ovvero 6 pezzi di cobblestone, un pistone, un pezzettino di redstone e un piccone di ferro Ne facciamo più ne possiamo che 11 Manca un piccone di ferro Per fare un altro vabbè Masate un po' al suono che sento il tuo vento Ah, il mio ventilatore? No, no, il tuo ventilatore è il vento di Minecraft Ah, non c'è nessuno, non c'è nessuno, forse è il tuo È impossibile al 2% Vabbè dai Eh no, la Matmos non è insieme al suono di Minecraft Dei fare per forza F7, o le attivi o le disattivi Oh sì, è finita Ok Ci serve un timer Che si fa così Qua noi prendiamo Copper cover Eh Beh, come facciamo questo Ok, mi serve Dopo cucinare un po' di cose Copper cover, ci facciamo due e tre circuit, ce ne serviranno un po' di più forse però per iniziare Eh Quindi ragazzi, allora, se volete vedere come si fa, si fanno i vari macchinari, vedete i video nel suo canale Se no, vedete i miei 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 Cioè, la mia prospettiva, la mia No Abbiamo dei generatori avanzati Qui diceva di lusso E due redstone Ci l'hanno Come 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 No, non diremo che ci fare una Machine block Si Per il timer Con il red alloy wire c'è il red alloy ingot messi in fila, così Facciamo 12 red alloy wire, è tipo una redstone però che ha una caratteristica Ovvero che tanto quando c'è l'acqua non si distrugge, non viene distrutta E poi si può attaccare se sulle paradiche anche nei muri No Ce ne pare dei tetti, scusate Hai dei metallo? No Allora devo facciano un po' Perché a quanto pare le fornace prendono fornace di metallo per crearsi, non generatori E' strano Ce n'hai tu Ehm La Guarda la sega per dividere i blocchi Si ce l'ho E me la vedrai fuori? Ok Sto vedi davanti lo screwdriver per girare i Ah perfetto Ok E noi aspettiamo i nostri metallo, facciamo le fornace Facciamo gli stone 2 Qui ci facciamo un altro po' di cavi Ok Ho il crafting table Si mettono le cover tutte attorno E un blocchetto di aggiorni Questo qua Perfetto Allora Possiamo andare Lo facciamo qua Ok Mi ha detto che fornace è pronta Porca puttana che casino Ok Ahiaiaiaiaiaiai Strana però Scorsi episodi non faceva cosci casino Cioè non avevo i suoni un buco come la festa stupido scomparo ha fatto sto per me però con la sessuta ancora ma lo che è sparito ok va diventando pazzo ok ecco qui ho messo la lava poi quindi 1,2,3,4,5 questo perchè non sta ricevendo acqua si metà qua c'è ancora un bel po' di metallo perchè ce ne servirà un sacco servirà anche tutto quanto ok strano quello che sento i suoni aspetta provo a rilogare, sto a buon attimo la registrazione ah ok fammi anche ok vabbè non lo stoppa della registrazione perchè sto continuando qua a fare non c'è da me certo ma è strano ho riavviato techit è chiuso però sono ancora il vento guarda lì ora prendiamo la registrazione ce l'abbiamo ok ho iniziato a registrare ci sento ancora il vento vabbè qua ecco il nostro metallo ci facciamo circa ehm se si rifare in aero dunque faremo due machine block intanto facciamo anche ehm due rifare in aero in più per farci d e il vetro no sabbia ehm in aero no no dovucina no mi serve il vetro lo scarichiamo qua dove non serve si 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 ci sta registrazione ok ha fatto il vetro ora lo facciamo imparare ok scusate di interruzione vediamo un po' di vetro perfetto perfetto ok ok ora sempre con ehm l'ensau facciamo ridurte e le slabs poi facciamo i pannelli i pannelli facciamo le cover che sono ancora più sottili ok ora prima di tutto mettiamo della cobblestone qua sopra no non bisogna girarlo ok perfetto ok una e meno ovviamente poi devo farlo qua ancora più basso è largo di un altro blocco ok ok vediamo qua c'è la sticker racing qua e altre tre di questa roba poi cosa possiamo farci perfetto ora prendiamo noi i nostri redstone tube tube e li mettiamo qua sotto dove dovrebbero essere precisi ok poi prendiamo il primario e li mettiamo qua e qua questo qua lo mettiamo qua questo così prendiamo il nostro timer lo mettiamo dopo lo mettiamo dopo perché sennò poi parte la macchina così lo mettiamo qua si si ah ah c'è un creeper là qua qua dove ma sarete ok ok quindi le macchine di base ci sono mmm facciamo il compressor e l'extractor che mi ricordo come si fanno quindi ok ora prendiamo noi i glass cover e li mettiamo sotto questi blocchi proprio quelle accanto ai block breakers aia che cacchio è stato puttano c'è uno scheletro aia d anzi non ero un creeper dobbiamo mettere per così qua io ho tratto a fare uno stack di iron dalla trasmission tablet ok ok perfetto 16 qua qua c'è ora dobbiamo ah ci manca questo qui facciamo così qua così comfort sarò sì qua bisogna chiuderlo si spera un'eitronica circuito ancora questo era ancora un'altra bomba lanka simbultime storia strano il tuo server non c'è l'agg mi va scatti ma vabbè non lo fa più ah ok ora mi serve un secchetto d'acqua io lo dilavo poi per me trovare quello di là ah no davvero non siamo niente cioè non abbiamo niente ci faccio rubarlo dalla tua macchina ma sai che hallo? in sé che ti dà questo è abbastanza veloce si fatto cosa posso smutare si allora basta ne facciamo un altro oh un po' troppo stichierà forse ok 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 come se entro due pezzi di silver in attività fuori uno stack vale così poco il silver vale 512 ah l'ho guardato facciamo due smeraldi e prendiamo due secchi d'acqua ma è una bella scorta ok questo qua che lo metto io dentro la sua macchina così va più veloce no ok l'ho messo sopra la macchina adesso eccolo qua ok mangiamo quindi io no è dentro cosa c'è una foto da definita uso �ore 1 Ora noi dobbiamo rompere questi blocchi in modo che noi possiamo camminare sopra i pannelli e l'acqua mi casca dentro. Ok, è compresso. Se vogliamo fare anche più figo basta ne prendiamo, mettiamo qua del vetro, prendiamo la terra e mettiamo il vetro. Tappiamo, qua. E ora mettiamo l'acqua. Uno qua e uno qua. Aspetta, facciamo uno qua e uno qua. Si deve fare qua in mezzo infinito ma non si fa perché baggato perfetto. Uno qua e uno qua. Eh, siamo a posto con le macchine, almeno per adesso. Poi forse andrò a gradarle a Glass Machine nei prossimi episodi o senza registrare magari. Perché le macchine non sono una cosa esattamente divertente a guardare. Prove, mmm... Oltima cosa che devo fare era... Devo fare qualcosa. Non lo so cosa devi fare. Ah, si dovevo mettere a estrarre la gomma. Ok, ora come vedete noi abbiamo sopra l'acqua. Però non cade perché sono i pannelli. Però possiamo camminare sotto. Quindi abbiamo anche abbastanza spazio per saltare. Ora dobbiamo andare nella grotta. A prendere un po' di lava. stringere lì. Volevo a vedere. A prendereè a vedere un attimo. ... A prendereè... Nel posto si sta mañana. Mennato se ho piccolo. A prendereè qui. Molto indisegherato. Sì dirai si. § Un po' affasare è... ... ... ... A... C... no, che c'è ora si, anche di questo episodio farò due volte a trasformare la MF così per riempire no, che è il culo, sto perché tenne la lava facciamo degli schiali qua, non mi sto dicendo niente deve essere molto stea alt ok, uno si è colpito con un altro ok, devo mazzurrare questa lava per fare la ahia, no, bastardo, no, nella lava, nella lava, nella lava ahia, no, no, fanculo, sono morto ciao, ciao rip emerald devo macerare il tin e il copper per fare il bronzo perché nel multiplayer non si può combinarli a lingotti sfogliatamente ma vero, non puoi farlo ancora li hai fatti un maceratore? si, due maceratori, due fornacci, un compressor e un extractor non è chiaro, due tanti sono morto sono scesi per di qua sono andato ah, qua per se cosa di qua, giusto? si ma che cazzo ok, adesso c'è la mia roba se sono abbastanza bravo riesco a finire là, ok ora là c'è il mio piccone e tutto prendiamo guardiamo un attimo qua dentro perfetto ok ma insomma, si oggetti come erano primo sarà il vento di tweet, l'aggiornamento è forza cosa si buono, ricordate, ragazzi, mettete sempre una volta si trasformare altrimenti vi saltano in aree le macchine a meno che non siano avanzate ovviamente ok mi fa fatta una gazzata fatta 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 mf mi servo 4 questo lavoro, questo lavoro qua, è capito ok, ritorno a casa eh, per ritornare a casa, ora c'è casino se verrà un machine block gli altri otto di metallo a qualsera saliamo molto lentamente ok rompiti, rompiti rompiti ok ok scuola sulla parte po' qualsdittà sul pagato muoio no, non c'è niente quei punti di casa non mi basta, ah no, dove stai in miniera si vabbè trovi la via no, mi dico che l'ho trovato a culo oddio che culo, si si come se il cavallo è stato comparso proprio nella via la storia dobbiamo per cadere là sotto ok ora mmm sei di gomma no no di qua no che c'è qua sotto cucù ah, si può fare? uno zombie vabbè 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 no no ok io premo un tasto che non mi ricordo quale ha doveva zoomare su control no di una minima no no ah, che cazzo puttà lo scherzo lo scherzo mi saprò ammazzare on the road un tasto e vero ci sarà farci la prensa per togliere la badbox se non vogliamo parlare la badbox e non si distrugge vedi no 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 ok ok che cosa raggi ci si tratta 4 almercista mi 4 diamanti e mezzo stagli di resto spero che per di qua si esce perchè finito le torce luce vedo la luce non no 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 ma ponere lecce di stall per fare lecce che sta più caricati saponire due c cristal vuoto per farne uno di un'altra sì ma c'è un creeper soltanto niente ok vieni allora tu quella volta si trasforma va qui con i tre puntini che guardano era questo l'abbia di uscito eccola là no era questa e la mf va va buttarci il muro qui che guarda da quella parte era qua no ero vicino a casa mi sono tutti in giro ok adesso abbiamo la mf e niente esploso perchè c'è la volta sola la volta si trasforma e questo blocco se c'entra energia sebbene non sia collegato con dei cavi perchè collegato direttamente allo voltage che non dà uno slot output venire uno scopo di far nulla di fatto strano ok facciamo imparare i secchietti di lava sposare una varia anzio danneggiata per fare l'elettrica e branca questa è la domanda mi sembra di sì ok meglio come mi faccio la scuola allora 3d copper ok questo non serve questo non serve questo non serve questo non servono questo neanche qua dentro ok oh si questi cinque mettiamo qua e uno due tre uno due tre quattro cinque sei sette otto così poi un copper cable che ne va un sacco 4 il team 10 e 11 e il tuo dirà stop ok ora posso pericolini non prendere fuoco bisogna mettere la lava 1 1 ecco non proprio dentro 1 dentro solo un blocco però ci siamo poi due click french ah no 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 non si può fare con una french danneggiata no che puttana eh mettiamo qua oddio sto per cadere dal lag ok questo lo mettiamo qua va per di qua ok perfetto ora prendiamo il vetro no devo vedere cosa fa mmm ok 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 tacchiamo tutto ok 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 qui funziona tutto abbastanza bene si qua oppure finito una cosa che mi manca è la cesta quella da come si chiama ehm energy condenser ecco che lo puoi fare tu ok ok energy condenser ci vuole un energy collector penso no ehm ehm che pare devo fare tutte le polverine no le polverine ci sono ah meglio così 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 un diamante una cesta normale no 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 2 di metallo come ero ok con shift control prendere tutti gli oggetti dentro la cesta vederti tipi secchi tutto il momento dentro la cesta nel vostro inventore quando faccio pure la stonca no sancio io troppo per lato giusto e ehm prendo un pezzo di vetro ok così non è successo ma tanto il betonolus 4 di costruzione 4 di ossidiana 4 di ossidiana o un 2 3 4 2 arroba grazie grazie perfetto ora posso aspettandolo una leva ok ragazzi abbiamo finito ormai lo so fare le decorrenze poi basta guarda che le tre non lo so sa quell'energia se ne basta che lo carichi una volta ti rimane per un bel po' ora mettiamo con la leva lo accendiamo mettiamo il timer lo settiamo a no così troppo a 900 0,9 secondi mettiamo qua dentro piazziamo l'energy collector mettiamo un pezzettino di ferro allora come funziona la cobblestone che si genera con l'acqua e la lava viene viene rotta dai block breaker che tramite questi tubi arrivano dentro questa chest questa chest ha una particolarità allora qua noi mettiamo l'oggetto che vogliamo trasmutare nel senso che quando noi arriviamo con 256 blocchi di cobblestone perchè vale un blocco di cobblestone 1 lo trasforma in un blocchetto di di cos'è? di ferro metà metà ora facciamo una prova guardate si rompe e vanno qua dentro si rompe e vanno qua dentro vorrei vedere anche io come vedete come vedete lui li brucia subito i blocchi i blocchi di cobblestone e qua sale sale questa barra appena arriva a 256 si fa un blocchetto di ferro lo stesso se noi vogliamo metterci anche io della carne ad esempio lo faccio vedere si puoi generare quello che vuoi si è proprio quello che si oggi serve il metallo ok ti vuoi proprio un blocchetto di metallo se noi prendiamo il lingotto di ferro dentro l'inventario dentro la cesta scusate rimarranno 36 MC e prima o prima la cesta si riempie con l'altra cobblestone si riempie perchè non c'è niente da bruciare diciamo c'è la cobblestone però non c'è nessun getto che deve essere trasmutato infatti se noi andiamo a mettere tipo la bistecca è più veloce perchè la bistecca meno MC e si trasmute in bistecca se noi mettiamo tipo anche un lingotto qua di ferro appena se lo prende e fare la bistecca aria quindi ci mettiamo questo guante non servono d aiut ???? no non ce l'avo io la batteria vabbè tra io sarà quella che parte ora per scendere cazzo alla mia batteria vabbè ne faccio un altro allora 1 2 3 4 ok come vedete il genio da 13 pezzettini è abbastanza veloce ok entratutto tutti gli oggetti che sono creati come una batteria l'energia non viene buttata via ma viene trasferita all'interno dell'oggetto che state creando quindi non spregate l'energia in questo caso è un'elettrica il branch completamente carica o quasi perché avevo la batteria carica e basta io ho finito ok io pure ho finito quindi possiamo anche concludere l'episodio volendo si quindi ragazzi l'episodio 3 verrà caricato su entrambi i canali e basta quindi io vi saluto ci vediamo al prossimo episodio bella ciao 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 Grazie a tutti.